Voglio farvi spendere questi minuti che stiamo insieme in modo diretto, senza girarci attorno, perché faccio un esempio, tante volte sentiamo parlare la politica della questione territoriale dicendo che c'è un tema di non omogeneità delle norme sul territorio, c'è un problema che è molto più grave, perché se fossero una diversa dall'altra, ma con distanziometri sostenibili e fatti bene, non ci sarebbe un problema, ci organizziamo, capiamo dove aprire sul territorio e apriamo, quindi togliamo questo velo che c'è il problema di semplice omogeneizzazione. Perché mi dici questo? Perché per rispondere a te, Domenico, è imbufalito, perché le cose che ha letto non sono semplicemente forze contraddittorie, questo adesso lo studieremo bene, lo capiremo, se c'è una virgola, un punto e virgola, una cosa che contraddice l'altra, no, qua c'è un tema enorme, lo ha sollevato Massimiliano Pucci, credo un paio d'anni fa, non proprio qui, a 50 metri, eravamo nell'altro angolo, quando ci proponeva, proprio a casa tua che ci aveva invitato, di metterci a ragionare su quali fossero i criteri giusti di distribuzione, no? Perché punto numero uno a questo tavolo, come in platea, dappertutto siamo tutti d'accordo, il riordino serve, serviva da dieci anni, il legislatore ci prova, poi non lo fa, questo è sicuro, ma come lo fai? Non è la stessa cosa, perché se lo fai in un modo, cioè bene, sistemi le cose, il comparto industriale di imprese italiane, di imprese straniere che vengono investite in Italia, i 170.000 lavoratori vanno avanti, se lo fai in un altro modo, il comparto cambia, cambia, diventa diverso, poi sicuramente se sentiamo qualcuno diventa diventi persone, se sentiamo qualcun altro gli occupati sono molti di più. Allora, quello che è in ballo, in questi giorni, con la lettura di queste box, eccetera, è che cosa? La valutazione del futuro di tutti quanti noi, di tutti voi che siete qui in platea, che avete uno stand, che fai giornalista, che fa l'avvocato, perché come scrivi l'ordino cambiano le cose. E allora andiamo al cuore del problema e faccio un po' di campagne acquisti. Acati, che è l'associazione che rappresento, associa i concessionari, i soggetti che hanno la convenzione di concessione. Dal 2018, Acati e i suoi concessionari hanno fatto una scelta importante, hanno scelto di entrare in confcommercio. Tu dici che c'entra. E no, in confcommercio, però risponde un po' alle tue domande, Domenico, perché in confcommercio tu hai grandissime associazioni confederate, come quella della FIPE. La FIPE è la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi. EGP FIPE è l'associazione rappresentata da Emanuele Cangianelli, che fondamentalmente cerca di portare nel mondo FIPE, nel mondo di confcommercio, l'esperienza delle aziende specializzate del gioco. Ma FIPE, chi è FIPE? Pubblici Esercizi. FIPE vuol dire bar, quindi la prima casa che sarà attenta all'andamento politico delle valutazioni che si faranno sulle modalità di riordino sarà proprio confcommercio.